Sanno l'onorevole Cassinelli, anche lei due minuti. Grazie signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio, prendo la parola per dichiarazione di voto a titolo personale. Per dichiarare che mi astrarò sul voto di fiducia, non condivido infatti né il metodo né il merito di parte di questo provvedimento. Non condivido il metodo perché non è possibile che uno dei due rami del Parlamento sia alla fine ridotto a poco più di un ufficio visti dove tutto deve passare sull'altare della fretta e dell'urgenza senza possibilità di dare un contributo migliorativo nella sostanza di questo provvedimento. Non condivido il merito e in particolare gli articoli 9 e 9 bis di cui sono stati relatori in Commissione Giustizia che riguardano, come il Presidente ben sa, i temi della giustizia ed in particolare la professione di avvocato. Io non credo che in un Paese dove ci sono 250 mila avvocati ci sia una grande necessità di inserire degli ulteriori provvedimenti per aumentare la concorrenza. Direi che il numero fa già certamente la concorrenza. Di conseguenza non mi sento di votare alla fiducia a questo governo su questo provvedimento e altrettanto farò per quanto riguarda poi il voto sul provvedimento finale. Grazie.